Ciao a tutti da Gioia Emilia Romagna. Siamo qui in una crisi di governo. Diciamo che sembra quasi che si stia giocando al gioco dell'oca e l'oca siamo noi e stanno litigando. Stanno litigando perché, come in tutte le famiglie, quando ci sono dei mezzi soldi si litiga perché qui adesso ci sono in ballo dei soldi. Quando a me mi vengono a fare la morale sia Conte che Renzi per il bene del paese, qui alla fine per il bene del paese ce ne sono pochi che si sacrificano per il bene del paese perché quando uno si sacrifica per il bene del paese vuol dire che se perde questa battaglia ci rimette ma qui sia l'uno che l'altro se dovessero perdere non ci rimette nessuno dei due perché? Perché Conte sarà pronto a preparare un suo partito, un suo partito che avrà il consenso del popolo e quindi alla fine anche se perde vince. Renzi se dovesse perdere alla fine anche lui sarà pronto a creare una grande DC che adesso con Italia viva ha un 1, un 2 per cento ma potrà creare un nuovo partito che rappresenta la vecchia DC e quindi se si va alle elezioni potrebbe prendere anche un 10 per cento perché alla fine tra l'uno e l'altro che si fanno la battaglia in parlamento nessuno dei due perderà perché tutte e due vinceranno perché alla fine a perdere saremo sempre e solo noi il popolo. Ciao a tutti da Gioia e Mila Romagna